Giovanni Longobardi ha lasciato Veronica Ursida. Lei si assume le colpe. In questi giorni sono state numerose le segnalazioni di una presunta crisi della coppia nata uomini e donne formata da Veronica Ursida e Giovanni Longobardi. I due protagonisti del trono over infatti dopo essersi conosciuti all'interno del programma di Maria De Filippi hanno proseguito la loro relazione al di fuori delle telecamere. Le cose sembrava stessero andando per il meglio ma invece i due sono entrati in crisi. Adesso ad annunciare ufficialmente la fine della loro storia è stata Veronica Ursida. La dama del trono over infatti sul suo profilo Instagram ha confessato di aver detto addio a Giovanni Longobardi. Ha infatti iniziato il suo post scrivendo Quando finisce una storia si dice che gli errori stanno nel mezzo. Beh non è sempre così. Tuttavia la donna ha anche spiegato i motivi della loro separazione assumendosi totalmente la colpa di ciò. Subito dopo nel dettaglio ha aggiunto Veronica Ursida non è scesa nei particolari ma dal suo post si può comprendere che la fine della storia d'amore con Giovanni Longobardi non solo c'è ma soprattutto è avvenuta a causa di un suo comportamento sbagliato, un suo errore commesso che ha portato il cavaliere a chiudere la relazione. Non sappiamo cosa abbia fatto ma sicuramente questa è una notizia inaspettata. Fino a pochi giorni fa i due trascorrevano le loro vacanze felici e spensierati. Per esempio nel periodo di Ferragosto si trovavano in Puglia. Adesso invece è finito tutto. la dama del trono over ha continuato il suo messaggio chiedendo pubblicamente scusa al suo Giovanni. Perdonami sei stato un signore e io ho sbagliato e infine ha concluso il post assumendosi nuovamente tutte le colpe. Le favole finiscono anche causate dalle principesse. Questa è la fine della mia fauna. Insomma tale dichiarazione di Veronica Ursida sui motivi della fine della relazione con Giovanni Longobardi ha spiazzato tutti. I due uomini e donne sembravano veramente innamorati e felici tanto che l'uomo inizialmente restì a fidarsi per via di delusioni passate alla fine si è lasciato andare e si è innamorato della dama. Cosa succederà però adesso che la loro storia è finita? Il cavaliere perdonerà la donna oppure li rivedremo nuovamente entrambi nel parterre del trono over di uomini e donne? Cosa pensate della fine della storia tra Veronica e Giovanni? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.